Obiettivi personali della stagione? Ma è stato di sistemare più una possibile situazione perché non mi piace per niente lavorare così? La situazione della permanenza, ieri è stata una giornata abbastanza importante, puoi già dire qualcosa? Il tuo agente ieri sera Tari si è sbilanciato dicendo rimane a Bergamo, siamo nei dettagli. Puoi confermare, puoi dire qualcosa di diverso? Il tuo agente. Io sinceramente non è inutile parlare di numeri, ho fatto un grandissimo sacrificio con quello che mi avevano chiesto l'ora e sono tornato praticamente sulle mie decisioni e ora aspetto l'ora. Mi devono dare una risposta e spero arrivi al giorno e si sa che benissimo che sono impegnati, io quando ho iniziato tutto, speravo si chiudessi in due giorni. C'era la contamina, la contamina, la contamina, la contamina, invece è andata un po' per le lunghe, poi anche i tifosi totalmente buono, non ce la sono presa perché capisco anche loro per chiedere degli aumenti quando si è retrocesso in una carina. Ma l'anno prima di ciò che mi sono tolti, quindi troppo, uno guarda il mio, non è sempre un professionista che si fa in campo, si fa in un cibo e si fa in un cibo e si fa in un cibo e non ci fa in un cibo e si fa in un cibo. Quella è una cosa bellissima veramente, fare una richiesta e in quel momento vedi tante persone che stavano a perdere di fare, io li ringrazio, vuol dire che è qualcosa che vuol dire.